Bene amici oggi vi parlo di cavi, 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 cavi e ancora cavi, sì perché se da una parte la standardizzazione dell'USB-C è stata una manna dal cielo, reversibile, può trasportare sia dati, sia potenza, energia elettrica, dall'altra ha generato un po' di confusione perché tendenzialmente quando dobbiamo andare a comprare un cavo USB tipo C non ci poniamo il problema che ce ne possono essere di vari tipi e di varie velocità e potenze Ma per esempio andiamo da Media World, Uni, Euro, Euronics e ne prendiamo uno a caso, io ho aperto cavo USB-C su Amazon, guardate quanti ce ne sono, non sono assolutamente tutti uguali, anzi sono molto diversi tra di loro e con questo video spero di spiegarvi la differenza e farvi scegliere il cavo adatto a quello che vi serve Vi faccio un esempio, guardate questo cavo come è piccolino, quest'altro cavo come è grosso, sezione, materiali diversi, ma la differenza non è solo nei materiali, è anche in quanti dati trasportano e quanta corrente possono trasportare E allora quale cavo è giusto per me? Dipende, dipende da quanti dati devo spostare, da che device devo connettere o alimentare Vi faccio un esempio, ho un hard disk, un SSD, beh avrò bisogno di una velocità dati molto alta ma di una potenza bassa, non è che questo consuma tanta energia Idem se ho un adattatore USB Ethernet 10 gigabit avrò bisogno di tanta velocità, se invece devo caricare il Mac mi servirà un cavo che collega l'alimentatore al Mac Che non mi interessa quanti dati trasporti, ma mi interessa che porti tanti watt, tanta potenza E allora qua ho fatto una sorta di tabellina Quali sono le differenze tra i vari cavi? Allora, qua ci sono gli standard, tra l'altro l'ente di normazione e standardizzazione Ha fatto tanti quei casini in questo periodo, però è una tecnologia sempre in divenire, quindi ci può stare Perché da USB 2 a 3 a 4, la 3.2 Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4, insomma sono delle categorie Per dire che la velocità dati può andare da 480 megabit secondo fino a 40 gigabit per secondo E ci sono degli ordini di grandezza tra queste velocità, cioè sono velocità veramente tanto diverse Tra l'altro gli ultimi cavi e le ultime velocità arrivano fino a 80 gigabit per secondo Poi bisogna capire se ha senso o non ha senso avere tutta questa banda, banda uguale velocità dei dati o meno Dall'altra parte la potenza trasportata, in teoria la USB fino alla 3 ha un massimo di 100 watt di potenza 20 volt per 5 ampere, la 4 può arrivare come standard a 48 volt, sempre 5 ampere, quindi 240 watt In realtà non è proprio così, ci sono alcuni cavi che magari hanno una velocità di 480 megabit per secondo Quindi dovrebbe essere USB 2.0 che in realtà portano 240 watt Vedete che differenza e quante combinazioni ci sono, insomma un casino, l'ho scritto qua Bello in grande, ma quali sono Andrea le differenze pragmatiche? Allora qua io ho due cavetti veloci, quindi 10 gigabit ma che portano uno massimo 65 watt L'altro massimo 100 watt e allora vi faccio vedere la differenza di velocità L'ho collegato al mio hard disk portatile, ho qua un programmino che mi dà la velocità dei dischi Guardate, faccio partire e arriviamo a circa 300-400 megabyte per secondo Attenzione, con questo cavo, adesso stoppo, cambio il cavo e metto questo un po' piccolino, un po' sfigatello Vi ricordate eravamo circa a 400 megabit per secondo Parto, guardate, 9, 10, 13, 20, 25 Forse arriverà, sì e no, a 30 ma una velocità nettamente inferiore, un ordine di grandezza inferiore Stessa cosa per quanto riguarda iPhone E trasferisco questo file da 17 gigabyte Quindi bello grande, guardate quanto va lenta la barra di importazione Vabbè, direi che annulliamo, se no facciamo notte E cambio con questo cavo qua Stesso file da 17 gigabyte Guardate adesso la barra di importazione Come spinge, come va veloce Però ho sbagliato a comprare questo cavo Perché iPhone, se lo usassi solo con iPhone Può scambiare dati al massimo a 10 gigabyte Quindi io ho comprato un cavo a 40 gigabyte Tra l'altro ho detto due parole, sono già a metà dei 17 gigabyte Beh, avrei buttato via dei soldi Perché la velocità tra questo cavo e questo cavo Che è appunto a 10 gigabyte Non cambia assolutamente Guardate, voilà, importazione Stessa velocità di prima Ma adesso parliamo dell'altro aspetto Quello della potenza Cavo da 240 watt Lo collego al Mac Alimentatore SBS con doppia uscita da 100 watt Lui riesce a succhiare 80-85 watt con questo cavo Adesso è un po' basso di batteria Quindi non sta succhiando proprio tutto 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 Arriva anche a 90-95 watt di assorbimento Ma guardate, se cambio stesso alimentatore Ma cavo molto più sottile Quello che faceva anche andare piano i dati Succede che arrivo al massimo a 55-56-57 watt Ma non è vero che cavo meno veloce uguale cavo meno potente Perché questo che è un cavo a 10 gigabit Quindi molto veloce per quanto riguarda i dati Se io lo collego all'alimentatore Guardate cosa fa Va esattamente come l'altro Cioè arriva anche lui a 60 watt Quindi le due cose Velocità dei dati e potenza elettrica che sposta Sono due variabili indipendenti tra di loro Insomma, come dicevo, un casino Quindi per scegliere il cavo giusto dovete farvi queste domande Vi serve velocità dati per SSD Per adattatori di rete Per collegare anche hub di USB tipo C Magari ci sono hub che hanno 3 o 4 porte USB C 10 gigabit A cui collegate magari più di un SSD Se usate un cavo a 10 gigabit Tra l'hub e il computer Create un collo di bottiglia Se invece usate un cavo a 40 gigabit Sempre che l'hub sia compatibile Con i 40 gigabit tra hub e computer Non creerete colli di bottiglia La seconda domanda che dovete farvi è Potenza di ricarica Devo caricare un PC Devo caricare uno smartphone Oppure devo semplicemente alimentare un adattatore che consuma poco Oppure ho bisogno di entrambe le caratteristiche Cioè potenza e velocità Tipo alimentazione monitor portatili 4K o 8K Altre domande a porsi sono Quanta velocità mi serve? Ho un adattatore di 10 gigabit E' inutile prendere un cavo da 40 Ho un SSD lento Magari mi basta un cavo da 5 gigabit Ho come dicevo prima Un hub mi serve un cavo da 40 gigabit Ho un monitor mi serve un cavo da 40 gigabit Insomma quanta velocità e quanta potenza Sono pochi device che vanno a succhiare più di 100 watt Forse un cavo da 240 non ha molto senso Anche perché più potenza e più velocità Vuol dire cavi che costano di più E su Amazon vi faccio vedere proprio come c'è questa variabilità Questo è un cavo 60 watt super basic Con una velocità di 480 megabit per secondo E mi raccomando quando cercate un cavo USB tipo C Leggete le specifiche Perché a volte sono scritte piccole Per esempio qua su questo cavo è scritto in grandissimo 240 watt quindi voi dite mamma mia un cavo molto potente Sarà anche molto veloce Poi in piccolo andate a vedere no 480 megabit al secondo Quindi un cavo lento ma che porta tanta corrente Questo è una via di mezzo perché è un cavo da 100 watt E riesce a trasportare 480 megabit Quindi lento e abbastanza potente Questo è un cavo da 20 gigabit di velocità di trasmissione dati E 100 watt di potenza Quest'altro cavo guardate è addirittura per monitor 8K Quindi un cavo da 10 gigabit ma porta solamente 60 watt Questo invece è mi sembra quello che ho comprato io 240 watt 40 gigabit Insomma dove vuole arrivare questo video Vuole aiutarvi a non farvi spendere un miliardo Perché inutile magari comprare cavi anche da 100-150 euro Perché poi la differenza, la sfumatura tra la placatura oro La non placatura oro economicamente è alta Da un punto di vista delle prestazioni è bassa Come quelli che si fanno mille pippe sui cavi HDMI placcati oro Che costano un miliardo di euro rispetto a quelli che costano molto meno Ovvio che poi magari la stabilità della connessione Insomma ci sono vari ragionamenti a fare Ma non ha senso a volte spendere tantissimo Ma non ha neanche senso magari spendere pochissimo Quando poi dobbiamo collegare un hard disk E allora mi raccomando Quando dovete comprare un cavo USB-C Che velocità mi serve? Che potenza mi serve? E troverete la combinazione giusta Qua sotto in descrizione vi metto 5-6 cavi Che ho selezionato, che ho comprato E che ho utilizzato E che mi hanno dato delle buone sensazioni Ma tendenzialmente se seguite i suggerimenti E le dritte che vi ho dato Riuscirete a comprare il cavo giusto Perché sono sì standard USB-C Ma non sono tutti uguali Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti